Meteore intese come piccole anime che non riescono a sbocciare alla vita. Un bimbo nato morto o deceduto durante la gravidanza lasciano ai genitori in tutti i loro cari un insopportabile senso di vuoto. Spesso il loro grido di aiuto rimane inascoltato, essendo la tematica non ancora del tutto approfondita scientificamente. Dietro la scia di una meteora è stato il titolo del convegno che ha avuto come oggetto di discussione la problematica rappresentata dalle morti per i natali, fra ricerche e assistenza. Il convegno organizzato dal Lions Club Potenza Pretoria ha posto le basi per un complesso di iniziative volte ad assistere i genitori colpiti dal grave lutto della perdita di un bambino prima della sua nascita. L'attore principale è l'avvocato Fabio Baldissaria che fortemente ha voluto promuovere questa iniziativa nell'ambito della programmazione annuale del nostro club che credo vada verso lo spirito vero del lionismo cioè quello di stare vicino alle famiglie che soffrono alle persone deboli e a concorrere nel sollecitare anche un'attività istituzionale in questo caso con la regione Basilicata per un'iniziativa legislativa in tal senso perché sia la nostra regione che l'Italia intera diciamo pecca un po' di ritardo. Cercheremo con questo progetto e anche con l'evento di oggi di capire anche i motivi per cui non riescono a sbocciare alla vita. Infatti l'evento di oggi rappresenta innanzitutto un'occasione per parlare di questa tematica perché spesso viene relegata negli argomenti troppo dolorosi di cui è meglio non parlare. E poi soprattutto segna l'inizio di un progetto. Il Lions Club Potenza Pretoria creerà un gruppo di supporto ai genitori che hanno subito questo tipo di lutto specializzato con operatori specializzati e proprio oggi doneremo all'ospedale San Carlo dieci memory box che rappresentano un materiale che serve per osservare il ricordo delle meteore per stare vicino ai genitori. Per questo finalità del progetto è anche quella di sostenere la ricerca con particolare riferimento alle individuazioni dei fattori di rischio alla base delle morti in utero considerate da molti sottaciute o comunque senza riconoscimento. Più che sottaciute sono delle morti che non hanno la dignità del riconoscimento di indicatori a livello internazionale. Devo dire che, come dicevo, dai dati del 28 per 1000 del 2010 i paesi occidentali viaggiano intorno al 3 per 1000 e il San Carlo in Italia la media è il 3.3 e il San Carlo nel 2015 ha avuto il 3 per 1000 quindi noi facciamo circa 1600 nati è facile fare le proporzioni i dati degli ultimi tre anni grossomodo oscillano tra il 3 e il 5 per 1000 e quindi noi facciamo circa 1000